ragazzi lo so che sto forte non c'è bisogno di me battere le mani faccia devi battere ah 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 si GG in faccia ragazzi non so da quanto tempo è che non facevamo una partita insieme voglio assolutamente 30.000 mi piace adesso per la duo col giocherigno per forza ragazzi c'è anche perché poi questa un po' dall'inizio ci siamo scaldati ci siamo un po' ritrovati e poi alla fine ragazzi il devasto totale spolliciate, commentate, scrivete la campanellina io vi auguro una buona visione ah questa è subito vittoriale ma devi necessariamente gufarla? come funziona? scegliamo dove atterrare una volta a testa ok giochiamo insieme dal capitolo 1 season 7 probabilmente mamma mia scidi tu va, scidi tu all'inizio scelgo io la prima panico a Misty Meadows vai ci sta e voglio carico proprio di quelli a sghiana eh no ti dico solamente che ci stanno almeno 10 team cosa? non ti girai allora io sono all'altra casa oh oh io sono nei guai aiuto lanciarazzi cerco di arrivare eh vabbè ti da fare sono io o quello? no lo so lo so è anticipato tutta una tattica la situazione è già critica apri apri? arrivano fra aspetta un attimo eh il miracolo vediamo che la situazione è abbastanza critica ho messo paura con lanciarazzi ho trovato il pompa meno male ha battuto uno oh ma no andai dietro altro team ma va no dove sei? eh sotto sotto dove stavi tu a curarti ho il bagno eh zitto 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 ho fa la caca zitto zitto siamo ancora vivi let's go ok ucciso ottimo madonna il panico cosa ti serve? dimmi no no ho tutto mi serve veramente qualche colpo dei piccoli e medi se ce l'hai tieni tieni ammazza stai guarazzato quella sono arrabbiatissimi wow 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 ti bussiamo dietro ma non c'ho mai di rari visto il tato bianco 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 quale dei due? ma dove stai? mi bussiamo a me mi bussiamo a me orco d'incinato mi ha bussiamo quell'altro è bianco se ti riesce a fare questo eh no eh tosta cosa? ma da dove? l'ave pure preso ho quattro di mazzo questo ho fatto i spettatori 16 di vita 16 di vita oh mio dio ma prima dai ci sta ready up devo impegnare cioè no non lo so è il minimo guarda tocca pure a te scegliere quindi scegli con cura non mi dire spiagge sudate no no io vado qua ah buono bello slurpio swamp mi gusta ci buttiamo subito a pantano di solito io vado nella parte lontana non subito va bene io vado in quella vicina così polverizziamo subito tutti ma attenzione perché qua la gente proprio si scada fascia c'è tanto da lotare ci facciamo in tutti i scudi e poi dobbiamo pescare tantissimo ah dobbiamo fare un endgame tutto pesce grigliatina tattica una bella frittorina duvesce viola l'amalia c'è un lama ok perfetto diciamo che qualche team c'è il mio atterraggio non è male il mio atterraggio fa abbastanza cagare possiamo andare giusto qua io lì sono guarda nessuno su di me sono libero con fa bianco e pistolina uno scudo a 50 ha battuto uno tattico bianco tattico bianco se vuoi si lo prendo allora quello che è entrato qui da me probabilmente era quasi morto ormai quindi vuol dire che da fuori erano laseratissimo c'è gente qua fuori eh sta passando da fuori eh laserato laseratissimo preso bravissimo gli 7m di kit può lasciare da sopra noi arrivano qua arrivano qua eh arrivo one hit one hit ottimo c'è l'amico no 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 è lì dietro eh sta per morire uccidilo 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 gioccherino tutta le tue mani vieni via vieni via qua che la situazione è brutta grande ci avrei scommesso un euro eh no perché io volevo far credere che me ne andavo invece ho detto lo sai che c'è appena per lo laser mind games riusciamo a prendere una canna da pesca al volo e ci facciamo qualche pesce se riusciamo sarà tosta ma ci proviamo ok un inizio movimentato scoppiettante io vedo di prendere qualche materiale perché siamo alla bucina esatto esatto sì sì siamo messi proprio molto male però intanto questi qua li abbiamo polverizzati sì 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 l'importante è quello ma poi penso che probabilmente non ci dovrebbe stare più nessuno non lo so eh eh mi butto da qua eccomi ti piace la mia carrozzeria? alla grande segniamo facciamo molta attenzione ok non c'è un kaiser non mi piace con l'arma io non la voglio ricordiamoci che a bordo safe eccoli guarda quello ma che stanno a fare le scale lì? rotto a me sembra ancora integro non so perché ma che sta succedendo? ma non ho capito oh l'ha battuto è morto? sì ma non capisco che succede perché è rimasta la scala comunque l'ha battuto cadere la kill ancora non malattata impossibile ragazzi eh probabilmente o lo ha curato e stanno per morire quindi non te la darà più vabbè noi siamo in zona sicura te c'è la canna da pesca? no lo doveva buttare oh il nostro motoscafo se ne sta andando oh va bello vabbè andiamoci a una piedi ti lascio vede sti cavoli ma come? senti allora lì c'è un sacco di hut pure però secondo me già ci sono stati perché vedo delle scale quindi non so quanto convenga che andiamo a uccidere? vai così mi piace per mezzo bolla tento sparare me sta qui aspetta che potenzio il pump laserato granate non sono mie ahia dietro di noi dietro dietro ci hanno preso a panino e non siamo neanche in zona sicura bene io me ne vado in safe io forse sono morto no altro team ho finito i materiali porco dici vieni le mie dietro se ce l'abbiamo dietro se occhio qua c'ho ho appena ucciso vieni qua vieni qua vieni qua ma quanti sono? no dai dietro un altro dai dietro un altro dai dietro un altro ma quanti sono? maledetti oh guarda ma no vabbè tutti qua sono tutti oh il mio pump viola ti piace questa? vai mi piace fattoria alle fattorie robio lo se è la la c'è un lama alla ti dico solo che la madonna steve c'è un po' di gente porco dici quando scegli idee fermate proprio ma perché? alla se riusciamo ad andare a centrale io vado in basso alla casa secondo me è pericolosa la casa centrale io vado sul fienile eh ma è pieno anche lì tre team eh? mamma mia bro no ho missato il fienile no ma voglio sensarmi questi già trovano i fucili a pompa ma come? non è possibile eh sta qua non è sta appena picconale nooo ma che cavolo? sto coglione è miracolo questo subito rianimato occhio perché stai attirando un sacco di attenzione quindi lasciami pure una mitraietta non ci interessa tra do tra do certo è più materiale di quando si è atterrato c'è anche il pompa qui dietro bello che vuoi di più lasciamo lì sono in due ce l'hai chiesto se ha battuto a te preso l'altro oh ma da me 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 che roba che dolore ma come faceva a sapere che stavo qui dietro è una shot questo come faccio ora? cioè se mi spara noi sono morto eh sì quello sotto che ha deciso a me non ha vita quello no si è fatta la vita invece eh eh dai ma non c'è va bene in qualsiasi posto ed è pieno del server tutti lì e che vinciamo subito la prima hai portato poca sfiga sì scegli tu c'è meno gente quindi scegli pure io sono fedelissimo al mio pantano perché mostra pure più distante dalla bus ludiamo tutto troviamo il mondo e questa ragazzi guarda ve lo dico qui lo dico e non lo dico hashtag vittoriale te la sento magari tutte le volte che l'ho detto non funziona mai dobbiamo essere fiduciosi guarda gente si è buttata verso parco madonna mia la gente sta male proprio c'è altra gente pure quello sta là davanti come cavolo fa già sta lì davanti ok AR verde scudo io un atterrato ti rubo la roba c'è un famas blu mi sa che quello sopra era il compagno quindi è ok quindi forse è solo è da solo tipo che era sopra di noi perché ci ha saltati sento dove guarda me fatto fatto easy lì da te però sei occhio mi hai stato visto qualcuno mi ha cecchilato in pieno tieni è uno però intanto fatti questo dovrebbe essere forse l'ultimo team stanno spaccando sotto stanno spaccando qua 31 bianco preso ah era da solo ottimo ho manco visto il compagno figurati non puoi capire che c'aveva questo eh ho spazzoli mannaggia ho sentito una trambata comunque l'atterraggio non ce la capiamo male no qua no il problema è che dobbiamo concludere in bellezza eh ma dai 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 crediamoci qua ah ma c'è l'ho davanti eccoli c'è altra gente voglio provare sono due arrivo aspetta aspetta che sto lontano ha battuto grande è un angolo eh gli passo da sopra si si sta qua hai fatto 100 anche al secondo si si eh va bene la buccia è finita sta prendendo il loot del compagno aspetta è tu lo faccio cadere fatto il danno 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 è bianco ucciso ucciso come ho fatto a uccidermi forse ti ho unpampato sì dai dovremmo farcela eh ti droppo il medikit curati al volo ti rilascio entrambi così l'altro te lo porti va vai tanto la safe sta bene o male vicina madonna quanti pesci avevano questi esatto esatto prendiamo quelli scudone scudati scudone scudini eh tranquillo tranquillo faccio il medikit arrivo c'è tutto qua faccio la mitraietta faccio dei pippo comunque oh maledetti eh combattono davanti a noi davanti a noi visto ma che caspita volete no no dobbiamo andarcene se mi fanno male a me eh lo so scudini scudini qui aia fatto laserato questo da me no madonna ho schifato la trappola per miracolo gio arrivano laserato abbattuto ricordati che dobbiamo andare in zona sicura anche da me da me one more shot vai easy vai grande sei ottimo tanto oh no questa non c'era prima non c'era dai che questa ce la portiamo a casa dai io calcolo ho sette scildini e due pesci viola quanti pesci viola hai due io qua sto costruendo un po' perfetto oh c'è un lama oh sopra noi stai non t'affaccia stai cosa qua 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 c'è chi non occhio stanno prendendo l'airdrop la il lama lo hanno preso peccato qui hanno buildato tantissimo eh si prendiamo la montagna più bella eh questa qua ci stanno sopra eh ci stanno però eh e sono i naviground eh oh ci flancano da qua razzi in arrivo per qua la safe sta sotto in basso eh uno è là sotto uno è lì 22 22 22 io sono sceso eh sono in zona sicura qua fuori eh oh no 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 sto laserando quello lì dove stai sparando anche tu credo eh io vado dritto di qua eh intanto qua da me stai qua da me stai un attimo che sono in situazione un po' stramba 32 blu quello lì siamo due contro due dov'è l'altro c'è uno qua sì è un due contro uno contro uno occhio che ha messo una trappola lì dentro lui eh l'altro dov'è sono io sono io sali sopra bravo oh ma no è sotto no mi ha preso in piano con un colpo di di lanciamissili sto per morire probabilmente 31 31 laseratissimo 8800 è qua è qua è qua sto sparando uno scudo eh ma no è qua siamo contro uno è qua davanti a me easy laserato one hit yes che bello alza sta coppa questa ce la siamo giocati bene quella dove hai detto questa cascassa il mondo vinciamo esatto ho detto hashtag tutto quanto ragazzi soddisfazione non so da quanta che non vincevano la partita cari amici come abbiamo detto questa partita non vi ha lasciato niente in sospeso abbiamo portato a casa la vittoria reale col giocherigno vogliamo immediatamente i 30.000 mi piace ma minimo minimo ragazzi cioè per forza mi raccomando nella descrizione ci sarà anche un video in compagnia del giocherigno quindi cliccate qua sotto dai dai salutiamo cosa stai per giocare il tutto bella raga che duo che devasto questa sarà bella